Gossip grande fratello VIP, Ivana allontana Luca, Aida ritrova Ieremias Alcune coppie del GF VIP continuano a tenere banco sui giornali di gossip, Ivana tiene a distanza Luca, Aida si riavvicina a Ieremias Rodriguez Quattro protagonisti della seconda edizione del grande fratello VIP, continuano a monopolizzare l'attenzione del gossip, stiamo parlando di due presunte coppie che, anche fuori dalla casa, non smettono di interessare il pubblico e i giornali Sono state proprio due riviste scandalistiche, Eva 3000 SP, ad accendere nuovamente i riflettori su Luca Onestini, Ivana Mrazova, Aida Iespica e Ieremias Rodriguez Se i primi due sembrano sempre più lontani, i sudamericani si dice che si stiano avvicinando parecchio in questi giorni, con buona pace della fidanzata di lui, Sara Ivana chiarisce, io e Luca non siamo fidanzati tra Luca Onestini e Ivana Mrazova E' nato un sentimento dopo la fine del grande fratello VIP Questa è la domanda, che si stanno facendo gli appassionati di gossip da circa un mese, cioè da quando hanno iniziato a circolare con insistenza voci, che vorrebbero i due in procinto di diventare una coppia Se entrambi i protagonisti del reality di canale 5 hanno sempre dichiarato nelle interviste di essere, per il momento, soltanto buoni amici, molti settimanali hanno lanciato con certezza la notizia, che tra loro sarebbe ufficialmente scoppiato l'amore La rivista Chi, nel suo ultimo numero, ha raccontato nei dettagli della presunta notte di passione, che il tronista e la modella avrebbero vissuto lo scorso weekend, una notte, che i diretti interessati continuano a non confermare La stessa ipazione dunque hanno scendere al prezzo della felicità, che la costituzione del radio che sia interessante, che il suo ex spalorevo del radio che mi serve bene La vita non è geashome non è n'areggri, ma anche se non è nascito Grazie a tutti